Buonasera e benvenuti. Grazie a voi per aver scelto la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la casa di tutti i giornalisti, per approfondire queste tematiche che sono di stringente attualità. Per un caso veramente fortuito, questo appuntamento di oggi è quasi la prosecuzione dell'appuntamento che si è svolto appena dieci giorni fa e che abbiamo promosso noi in questo caso, è dedicato alla libertà di informazione e alla pari dignità sociale dei cittadini, l'articolo 21 e l'articolo 3 della Costituzione, in quell'occasione abbiamo avuto qui il Presidente Merito della Corte Costituzionale, il Professor Giovanni Maria Flick. Il tema di oggi autogoverno, etero governo della magistratura è evidentemente un tema dettato dall'attualità, ma è un tema che chiama in causa, a mio modo di vedere, i cardini della democrazia liberale della nostra Costituzione. Perché la democrazia liberale si fonda sul principio della separazione dei poteri. Quindi a mio modo di vedere qualsiasi ipotesi di etero direzione, per quanto possa essere acceso il dibattito, andrebbe a minare il fondamento stesso della nostra Carta Costituzionale. Io ritengo, sono tematiche che stiamo approfondendo da tempo, che in questo Paese si è già in atto il tentativo di smantellare la prima parte della Costituzione. Guardate, se il signor Steve Bannon dichiara pubblicamente che l'Italia è il laboratorio per una nuova forma di democrazia, diversa dalla democrazia rappresentativa, noi riteniamo che ci sia veramente da essere preoccupati. Quando si parla di democrazia digitale, io ritengo che si sia di fronte a uno simoro. Perché se associamo la democrazia al digitale, noi stiamo automaticamente consegnando le chiavi stesse della democrazia al padroni del sistema, a chi detiene le chiavi del sistema. E la stessa democrazia diretta, di cui tanto si discute in questa fase storica, è la negazione stessa della democrazia liberale. Perché ce l'ha ricordato proprio, ripeto, qualche giorno fa il professor Flick, quando sentiamo parlare di democrazia diretta, la prima cosa che dovremmo chiederci dovrebbe essere quella diretta da chi e diretta dove. Ecco, io ritengo che questo sia il rischio che sta correndo la democrazia italiana. E guardate, per stare al dibattito di questi giorni, appunto, che riguarda l'autogoverno delle professioni, è un tema che riguarda anche i giornalisti. Io ritengo che l'autogoverno sia delle categorie professionali, sia un bene da salvaguardare. Certo, un bene da riformare, va sicuramente riformato, ma è sicuramente un bene da salvaguardare. Perché è vero che è molto facile fare di tutta l'erba un fascio, ma l'autogoverno delle professioni deve servire, a mio modo di vedere, a dare garanzia all'opinione pubblica, garanzia ai cittadini. La garanzia deve essere quella che in tutti i consessi umani c'è chi sbaglia, in tutti i consessi umani ci può essere chi viola delle regole. La garanzia deve essere che chi viola le regole viene sanzionato e questa sanzione diventa pubblica. L'opinione pubblica deve potersi fidare delle categorie professionali, delle istituzioni delle categorie professionali. Quindi far funzionare gli organi di autogoverno significa restituire credibilità alle professioni, restituire credibilità alle categorie professionali e come dire, respingere anche il tentativo invece di chi sta cercando, ripeto, sfruttando anche quelli che sono fatti di cronaca, di mettere le mani nel governo delle professioni per ridurre le professioni al silenzio o comunque renderle meno autonome. Vale per la giustizia, ma vale anche per l'informazione. Noi da tempo in Italia, negli ultimi mesi c'è stata un'escalation in questo senso, assistiamo all'attacco frontale all'articolo 21 della Costituzione che non è soltanto il diritto di informare ma anche è il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. È un attacco che ha preso corpo negli ultimi mesi anche con provvedimenti che vanno nella direzione di moltiplicare i tagli all'informazione, siamo stati anche qui protagonisti insieme di un'iniziativa in favore di Radio Radicale, siamo riusciti a scongiurare per il momento quel rischio, ma anche di tanti bavagli all'informazione. Voglio semplicemente qui ricordare l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che vada a sanzionare chi utilizza le azioni temeriarie contro i giornalisti e contro la stampa a mero scopo intimidatorio. Noi ci stiamo battendo da anni per ottenere una norma che sanzioni non soltanto col pagamento delle spese legali ma anche con una sanzione pecuniaria certa, determinabile, proporzionale all'entità del risarcimento di richiesto, chi fa un uso temerario della giustizia al solo scopo di intimidire il giornalista, intimidire chi fa correttamente informazione o chi fa inchieste. E l'altro tema è quello, se ne è parlato negli ultimi giorni, che riguarda appunto la riforma delle intercettazioni. Se ne parla da tempo in questo Paese, noi siamo allineati con quello che più volte ha affermato la Corte Europea dei diritti umani, ossia che è diritto dei giornalisti pubblicare tutto quello che ha rilevanza pubblica, ha rilevanza per l'opinione pubblica e quindi, come dire, non possono essere in alcun modo previste forme di bavaglio alla stampa. Per cui non ci vedranno mai favorevoli proposte di legge che vadano nella direzione di aumentare o far crescere i bavagli nei confronti della stampa, così come non ci vedono favorevoli azioni, quelle azioni che talvolta purtroppo si verificano, azioni spettacolari che vengono compiute, per esempio, all'interno delle redazioni, quando si mandano le forze dell'ordine per risalire alla fonte di chi ha dato la notizia al giornalista, quindi per scoprire chi è l'autore della fuga delle notizie. Non si può chiedere a un giornalista di tenere segrete le notizie, quello è un mestiere che deve fare qualcun altro. Il giornalista ha il dovere di pubblicare tutte le notizie che hanno rilevanza per l'opinione pubblica e delle quali l'opinione pubblica ha diritto di conoscere. Questo significa, al nostro modo di vedere, difendere anche con l'informazione la democrazia, le sue funzioni, le sue istituzioni e i suoi valori, anche da chi vuole trasformare la nostra democrazia in una universale chiacchierata in rete. Questo secondo me non è assolutamente accettabile. Non è accettabile che l'opinione pubblica disinformata, perché appunto l'attacco all'informazione, venga lasciata in balia di chi gestisce piattaforme digitali al solo scopo di manipolare l'opinione pubblica e quindi manipolare non soltanto le informazioni e manipolare proprio il consenso stesso dell'opinione pubblica. Ecco, noi riteniamo che questo sia un tentativo da respingere e che questa reazione vada messa in campo da tutti coloro che hanno a cuore la Carta Costituzionale. Grazie.